Tenuta a tre rose, vino nomine di Montepulciano Riserva 2015. È la nostra riserva, è il nostro simposio. Il simposio è il vino che esprime il carattere concentrato della riserva di vino nobile. Insieme all'arancia e al chinotto si hanno i caratteri della ciliegia e della marena, ma anche questa bellissima complessità balsamica che ricorda l'eucalipto, fino ad arrivare a delle note salate che caratterizzano il palato. Il palato è un palato concentrato, ricco di tannini, ma questi sono tannini estremamente dolci e complessi che avvolgono completamente un finale cremoso.